L'energia è alla base del vivere quotidiano. Dare energia significa occuparsi delle persone. Noi di Estra vendiamo e distribuiamo gas metano e GPL. Garantiamo un servizio affidabile, sicurezza e risparmio. Estra si prende cura dei clienti, dà luce ad ogni giorno, perché tutto sia chiaro e trasparente. Con noi la vita si accende. Estra. Gas e luce.